Alla domanda, naturale, potete continuare a farla, non vi preoccupate, anche se io poi rispondo, sapete, a volte in modo un po' brusco. Sei contento? Che ne so. Però di una cosa sono contento. Chiedere che so di Trapadi è venuto fuori un altro vescovo. E veramente non è importanza che sia la persona, ma che sia venuta fuori da questa chiesa. Grazie.